Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Nei prossimi due giorni ci attente è un tempo un po' più caldo del dovuto per via della presenza dell'alta pressione africana. Giovedì 16. In genere è poco nuvoloso per tutta la giornata, venti deboli di direzione variabile e mari calmi o quasi calmi. Temperature oltre le medie del periodo, anche fino a 35-36 gradi nelle pianure del Cosentino. Nessun cambiamento per venerdì 17 settembre, salvo la possibilità di cielo generalmente opaco a causa della presenza di pulviscolo desertico in sospensione nell'atmosfera. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie.